Stellantis ha recentemente espresso preoccupazioni riguardo gli alti costi di produzione dei veicoli elettrici in Italia. Stiamo parlando del quarto più grande produttore di automobili al mondo, che conta ben 43.000 dipendenti solo nel nostro paese. La recente audizione parlamentare di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha sollevato preoccupazioni significative riguardo la possibilità che l'azienda possa ridurre ulteriormente la sua presenza in Italia. La minaccia di spostare le operazioni in paesi con costi di lavoro più bassi ha aumentato le tensioni tra i lavoratori e le autorità italiane, che temono per il futuro dell'industria automobilistica nel paese. Ma cosa significa per l'industria automobilistica italiana se Stellantis trova troppo costoso produrre veicoli elettrici nel paese? L'11 ottobre 2024, Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, è stato convocato per un'audizione parlamentare presso la sala del mappamondo di Montecitorio. Durante un'audizione tesa, Tavares ha riferito alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato riguardo ai costi elevati di produzione delle auto elettriche in Italia, sottolineando che tali costi sono circa il 40% più alti rispetto ad altri paesi. I costi principali sono da un lato quelli dell'energia, ma dall'altro la burocrazia complessa e le tasse elevate aumentano i costi, rendendo sempre più oneroso fare impresa nel nostro paese. Il sistema di trasporti, sebbene ben sviluppato, comporta spese logistiche non trascurabili, specialmente per il trasporto su strada. Riguardo i costi del lavoro, secondo un rapporto dell'Ox, il costo medio del lavoro in Italia è diventato tra i più alti d'Europa, soprattutto in confronto ai paesi dell'est Europa come la Polonia o la Slovacchia, dove Stellantis ha altri stabilimenti produttivi. La differenza nel costo del lavoro può arrivare ad essere del 50% superiore in Italia. Stiamo parlando di soldi che spesso, purtroppo, non raggiungono nemmeno il dipendente, ma vengono trattenuti in tasse. Dall'altro lato, i costi di energia elettrica per le industrie italiane sono tra i più alti d'Europa, stimati tra lo 0,15 e lo 0,18 euro per kilowattora, mentre in paesi come la Francia o la Germania le tariffe erano più competitive, ma ora si stanno livellando grazie a sussidi statali. Inoltre, gli stessi paesi dell'Europa orientale offrono incentivi specifici per le aziende che investono a produzione di tecnologie verdi, riducendo ulteriormente il costo di energia per la produzione di EV. Altro grande ostacolo sono le infrastrutture italiane, che, sebbene ben sviluppate, soffrono di costi logistici e tempi di consegna più lunghi rispetto a quelli di altri paesi europei. Stellantis ha evidenziato come le catene di approvvigionamento italiane tendono ad essere meno efficienti rispetto a quelle di altri paesi in cui opera. Uno studio del 2022 della Confindustria ha mostrato che i costi logistici in Italia sono superiori del 15 o 20% rispetto alla media europea. Questi elevati costi di produzione hanno un impatto diretto ovviamente sul prezzo finale dell'automobile prodotta. Risulta sempre minore quindi l'accessibilità economica dei veicoli elettrici per la classe media. Tavares ha infatti enfatizzato quanto produrre veicoli tradizionalmente familiari che non siano accessibili al consumatore medio sia controproducente. Per questo ha inoltre chiesto nuovi incentivi statali per stimolare la domanda di veicoli elettrici, attualmente molto bassa in Italia. Proposta che non è stata presa per niente bene né dal governo che dalle opposizioni. La politica italiana ha espresso forti critiche nei confronti di Tavares e Stellantis durante questa audizione parlamentare. Ha sottolineato che Stellantis ha ridotto significativamente il numero di dipendenti in Italia, passando da 40.000 a 28.500 unità con ulteriori 3.800 posti di lavoro a rischio entro la fine del 2024. Carlo Calenda ha anche criticato la richiesta di nuovi incentivi statali da parte di Tavares, affermando che l'azienda non è più in condizione di chiedere supporto dopo aver malgestito tutte le proprie operazioni. Inoltre ha evidenziato come Stellantis stia spostando la produzione di modelli iconici italiani come la Fiat Topolino e l'Alfa Romeo in paesi come Algeria, Marocco, Serbia e Polonia, mettendo in dubbio l'impegno dell'azienda verso l'Italia stessa. E la risposta più dura è stata sempre dal governo, che ha definito la richiesta di ulteriori incentivi un vero e proprio ricatto. O l'Italia paga l'azienda per vendere o l'azienda lascerà il paese. In mezzo a questa crisi tutta europea, la Cina ha assunto un ruolo di primo piano nel settore dei veicoli elettrici, diventando ufficialmente il leader mondiale in termini di produzione e vendite. Negli ultimi anni le vendite annuali di veicoli elettrici in Cina sono passate da 1 milione di veicoli a ben 6,8 milioni. Stellantis ha quindi adottato una strategia simile per affrontare la concorrenza cinese. L'azienda ha ampliato la sua partecipazione in una joint venture cinese, aumentando la sua quota dal 50-75%. Inoltre Stellantis ha acquisito Quoten Leap Motor, una start-up cinese di veicoli elettrici, proprio per sfruttare il know-how, l'esperienza e le risorse locali. Stellantis sostiene che i costi elevati per la produzione di vini in Italia sono il risultato di una combinazione di fattori, ma tra i primi quello di una politica industriale meno favorevole rispetto ad altri paesi europei. E se l'Italia vuole mantenere il ruolo di primo piano in una produzione automobilistica e facilitare la transizione verso veicoli elettrici, saranno necessari interventi più incisivi, ma lo stesso all'interno di un quadro europeo. L'alternativa potrebbe essere quella di vedere proprio l'azienda automobilistica spostare sempre più produzione verso paesi con costi più bassi, mettendo a rischio decine di migliaia di posti di lavoro nell'industria automobilistica italiana. Quindi queste dinamiche come influenzeranno il futuro dell'industria italiana?